Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città a Brindisi presentati i progetti del cosiddetto Waterfront con cui il Comune Brindisino parteciperà all'assegnazione dei fondi PAC. Il Sindaco Rossi e gli assessori Elena Tiziana Brigante ai lavori pubblici e Dino Borri all'urbanistica hanno illustrato i due nuovi progetti che potrebbero ridare un'importante spinta verso la rigenerazione urbana e lo sviluppo del turismo. Sono due progetti, uno riguarda la riqualificazione del Waterfront, quindi il rapporto città-porto in cui intendiamo riqualificare la parte che va dal piazzale Leneo Flacco fino alla porta Town da Revelle che non è stato oggetto del primo intervento e recuperare due importanti in particolare attrattori che sono l'ex Capannone Montecatini e la cosiddetta area ex Pol che è la ricucitura tra il centro cittadino e il quartiere del Perrino. Quindi è un progetto importante, noi speriamo che venga accolto, è un finanziamento anche richiesto di circa 15 milioni di euro che potrebbe ridare una rigenerazione anche urbana nel senso anche della valorizzazione della storia della città di Brindisi. E il secondo tema riguarda l'asse turismo, su cui in realtà è un finanziamento alla progettualità, su cui vogliamo cominciare a studiare, abbiamo messo al centro l'accessibilità del Castello Alfonsino ma questo significa l'accessibilità al quartiere Mater Domini, l'accessibilità alla costa nord. Quindi il primo punto, l'intervento principale da pensare è quello dell'allargamento del ponte, il famoso ponte sapete che strozza sostanzialmente come un collo di bottiglia l'accesso sia alla costa, al quartiere e al castello. E poi tutto un percorso di viabilità all'interno che possa reggerire il traffico all'interno del quartiere Mater Domini con una pista ciclabile che possa anche connettere dal monumento al marinaio fino appunto al quartiere passando attraverso l'ex deposito catene dinanzi agli hangar che oggi sono occupati dall'ONU. Su questo abbiamo avuto anche un'interlocuzione sia con l'aeronautica militare che con la base ONU, sono tutti diciamo in via preliminare d'accordo, adesso è all'esame ovviamente anche loro degli oro-organi per un accordo che poi trasmetteremo al MIT proprio per rendere ancora più forte questa proposta. grazie